pronto ospedale parte buongiorno è pronto soccorso si a tenna grazie pronto buongiorno pronto soccorso si è medico è un attimo si è pronto buongiorno buongiorno e sono lo babbo del san fratello è medico si posso parlare con lei personalmente io potevo chiamare la sant'agra però sapevo mi vergogna un pochino è un problema stamattina io avevo 50 anni siccome mi prendevo un viagra no dopo l'ora per dire il rapporto no ma ero mezz'oretta che restai un cucchiato come i cani mi capivo lei come mi gonfio no non stai facendo mai potuto nascere niente stai facendo proprio sforzi per demorare ma credere pare che che si ferma pure il cuore ma lei è dentro sono a casa sia san fratello di quei a casa si è l'unica cosa di chiamare il suo medico che le farà qualche puntura mio rilassante e risolvo il problema se come mi vergogno non so come tu puoi fare una fiala di muscorilla un altro maschio fiala muscorilla 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 e poi con un pomade tipo reparil gel io avevo la tassi più immensura ma non sei riuscito ad uscirla non ho potuto nascere poi durare come un acciaio all'interno di quei si davanti si a cappella no si gonfio ed è rimasto all'interno e non l'ho potuto nascere in una maniera nemmeno dilatando? no neanche niente e dovevo fare un muscorilla tu? non è che era davanti capivo? ah? è di dietro ah è di dietro eh chi stai volendo e ascolta un attimo allora fai muscorilla muscorilla e tu riesci già è fatto pure un l'xdol per il dolore l'xdol per il dolore l'xdol per il dolore è buono così e poi prendi dell'u-an l'u-an 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 crema pomada l'u-an crema e gliene metti tutto 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 e per capire vedrai che uscirà io ti dover richiamo e un ghiaccio va bene? un ghiaccio va bene? grazie eh molto gentile ciao